Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio TP Termometro Politico di oggi, domenica 2 aprile 2023. La domanda fatta agli intervistati è che opinione ha dell'Unione Europea. La maggioranza risponde molto negativa, il 28,6%, poi positiva 25,5%, negativa 23,5%, neutrale 14,5%. Molto positiva, 7,1%. Non so, non intendo rispondere, 0,8%. Se sommiamo negativa con molto negativa, superiamo il 51%, quindi la maggioranza assoluta degli italiani oggi ha un'opinione negativa o molto negativa dell'Unione Europea. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie.